Oh, ma salve salvini amici cuperini e benvenuti in questo nuovissimo video, siamo su Insurgency Sandstorm Ma era un pochettino che non riportavo Insurgency Ho detto vabbè dai mi va di fare un videozzo quindi why not Insurgency Tra l'altro va a sapere se mi ricordo come si gioca e più che altro come sono fatte le mappe Allora qui sento passi ma sono tutti i miei compagnini E niente questo video spero se mi piace di riuscirlo a caricare di sabato Così che vi ricordo che per noi, me e Dylan domani registriamo le novità della settimana Marimampelagata Sì vabbè insomma registriamo il podcast e quindi martedì vi aspettiamo di nuovo nel podcast E speriamo che veniate in tanti Comunque Sì vediamo se mi ricordo come si gioca Qui l'audio, ok ora è più alto l'audio, ok Ok lo so Sembrava di aver sentito Non mi ricordo però da dov'è che mi possono sgamare Allora di là, la sopra sicuramente E anche da questa parte quindi Ok quello ci è morto Quanto ci stanno prendendo a? Oh Eh vabbè Eh Lonnie Badger Quindi speriamo l'audio sia giusto sia microfono che Non te lo mocca Sia microfono che Che gioco Che non sia nessuno, troppo alto nessuno dei due Ok Devo ricordare bene come si gioca Poi questa mappa sinceramente non mi è mai piaciuta Ma soprattutto tutte le mappe dove possono prendere a qualsiasi angolo Non mi sono mai piaciute Ma è nessun gioco Non solo qui Ah vittoria Ah era iniziata così Ok Salve sono il Cooper del futuro Che a fine video mi sono ricordato che non ho parlato di Gportal signori Sono partner da Gportal per chi non sapesse che cos'è Gportal È un servizio hosting di server di giochi Quindi non so Minecraft, Scam, DayZ e bla 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 In descrizione trovate anche l'IP del mio server di Scam Anche se ultimamente ci stanno uno o due persone Nonostante più di venti hanno detto che ci sarebbero state Ma non è mai pieno Quindi andateci a giocare E trovate anche il link per avere il 5% di sconto sul vostro server Che schifo non fanno Quindi niente ora vi... Guardatevi il video ok? Madonna voglio andare di MP7 adesso Così carino e coccoloso Ah! Già mi sono dimenticato all'inizio di dirvi Vi ricordo di andare in descrizione Perché ci sono tutte cose utili Il mio Discord Il Discord di Deadmatter Italia Un sacco di cose Come anche il Facebook, l'Instagram Qualsiasi cosa E nulla Ah! Premi da... Da associare invece è associato Si è dissociato come fanno tutti gli streamer Ma tra l'altro Com'è che si parlava? Ah! 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 Uh! Eh eh! No Boh Allora vediamo 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 di fare una bella partitella Oh! Questi sfondano le porte Come se non ci fosse un domani Allora Oh! Oh, che, 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 che smocchi? Ah, scusami, ma l'ho visto che l'ho colpito, ho visto il sangue? Dai, l'abbiamo visto tutti che c'era il sangue, dai! Vabbè che era senza mirare, però da... Eh, vabbè. Anch'io smarterigno paperigno con l'MP7 da quella distanza. Però teoricamente... No, ok, allora l'avevo visto bene. Madonna. Ma perché mi stanno uscendo i tutorial? Oh. Oh! Eh, niente. Ritorniamo con il mio amato Tavor. Così che posso... Ho un mirino... Un po' più lungo. Quello sta prendendo C. C'è qualcun altro? Sì, perché c'è molto Nostro compagno Ora da dove straminchia si saliva Da qua Assogobataya Perdendo Oh Non ti ho sparato Eh, vabbè, eh, però Ma porca merda Eh, 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 toma Eh, però Visto, io odio le mappe Guarda, dalla finestra Da di là Dio santo Eh, 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 eh Eh, scusa 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 ma li trapassa Scusa where Scusa scusa ma li trapassa Ok ho finito il calcio Oddio Boh non so come disattivare il tutorial Almeno i tasti non me li dimentico Ok ho finito il calcio Lì ho visto il sangue Oh ho Oh 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 Ok quello è morto Giusto Stiamo perdendoci Non stiamo più perdendoci Qui a sinistra Assogoyota Oh 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 Ho ucciso quello? Ho sentito l'urro della morte Non prendetemi mentre ricarico Ho visto uno C'è uno qui sopra Ok Piano piano mi scaldo Molto lentamente Ma l'importante Da Sì Senti là quanta gente tossisce Quindi Presuppongo ci sia qualcuno di là Non è morto quello Non è morto quello Che sei ed ecco Quello c'è rimasto per forza Quello lì dovrebbe avere ancora uno sotto Compagno Meglio non sparare compagni We never know Poi ci buttano fuori Stiamo anche vincendo Ho un freddo pelino In camera mia E va tutto alla grande Vittorio Yeah Dai come Prima partita vera 13-39 Non mi lamento Ok siamo Nella distilleria Tra l'altro mi piace la gente Nel livello Quasi 300 Quasi 400 Poi ci siamo noi nabetti Nel 29 Come me No 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 sugo tra l'altro vi ricordate perchè ha visto l'ultimo video di insurgency e ne ho fatti altri due o tre mi pare sempre di insurgency che era anche partite belline però niente come sempre poi mi fa fatica a caricare certe cose quindi poi non ho caricato per nulla e le ho proprio eliminate mi pare per ripulire un po allora brutto bastardo ok che ha ucciso il mio compagno bene 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 dai non ne avevo usate tanti sento ferro sta arrivando qualcuno ti ho visto amico ok sta tornando ii 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 uop sto qua vai il fatto è che ce la fanno a prendere c qui come C'è nessuno? Ma perché sembra che non ci sia nessuno? Sì, ma prendetelo Ma è morto, è morto, è morto, è morto Basta sparagli, è morto Allora So che non è bello vedere Ma qualcuno deve pur difendere B, no? E per questo ci sono io Ah, l'ho visto Chiamatemi pure lo sceriffo C'è qualche infamone? Che ora arriva? Hmm Sì Vieni Vieni se c'ha il coraggio Certo che questi proprio non ci guardano di qua, eh Vorrei un po' pushare Però non ho proprio l'arma perfetta da push Che tra l'altro 8-0 Dove sono le mie ricompense e uccisioni? Enemy at the bravo Aaaaaaah Oh Bellissimo Allora A Posso andare a dare una mano su A Prima voglio fare un giretto e posso avere un'angolazione su questi punti un po' meglio Ok Mi piace, mi piace, liberando Enemy at the bravo Non ci piace l'anemy at the bravo Aaaaaah FBI open up Nice Madonna con quale calcio lo sto a dire Mi sto messo qui? Ok Enemy at Charlie Sarà lì dentro Yes Ah, ah, ah No, non c'è andare A tutta la gravata Oh, oh Ok, vabbè Comunque Stiamo vincendo E mica di poco Loro sempre lì sono Allora Objective clear Ehm Ehm Da dove? Dal nostro spawn? Basta dare un occhio Vabbè Vabbè Viene Non importa Posso sto così Beh Eh, me lo porto a casa questo 13-3 con la vittoria stra-mega schiacciante Niente signori Se questo video mi è piaciuto come l'ho montato e E mi è piaciuto sostanzialmente Ve lo carico, spero di sabato Ehm Nulla signori Io vi ringrazio per la visione E ci si vede martedì con la nuova puntata del podcast E ci sono cose un po' scottanti di cui parleremo Quindi niente Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.